Ok, allora riprendiamo l'esercizio della volta scorsa, quella simulazione sul pronto soccorso, non su emergency. Avevamo speso il tempo principalmente a ragionare sugli eventi, a ragionare sui variabili che ci servivano come parametri d'ingresso, che erano veramente un botto in questo caso, e come stato del sistema, che per ora avevamo ipotizzato, ma non avendo ancora scritto il codice ci riserviamo ancora eventualmente di andare a integrare, l'elenco dei pazienti che in qualche modo sono entrati, e i pazienti sono un oggetto che ha delle informazioni collegate, e il numero di studi liberi. Per quanto riguarda il paziente, per ora era una classe vuota, per cui non avevamo ancora ragionato bene su quale fosse il suo contenuto, e la classe evento rappresentava i 5 eventi principali che avevamo identificato, con le proprietà del time chiaramente obbligatorio, il tipo di evento che chiaramente era uno di questi 5, e poi ci pareva utile avere un riferimento al paziente, per sapere quando io ho ad esempio un evento di new, o di triage, qual è il paziente che è arrivato, o qual è il paziente che è entrato in sala d'aspetto. Non è un generico paziente qualsiasi, ma devo tenere traccia di chi sia la persona che ha fatto questa transizione di stato. Quello che non avevamo ancora fatto la volta scorsa, ma a questo punto lo facciamo in un attimo, è di completare la classe evento con i suoi metodi, quindi un costruttore, che chiediamo a Eclipse di costruirci, time type patient, ci sta come costruttore, tutti i campi, possiamo avere i soliti getter setter, e anche qua un evento tipicamente è qualcosa che viene creato, inserito in coda, estratto e buttato via, quindi è una classe che tendenzialmente non modifichiamo, quindi in prima battuta non creo i setter, ma creo solamente i getter, poi se mi servirà li potrò sempre aggiungere, e più importante di tutti è il metodo di confronto ovviamente, quindi devo dire che questa classe event implementa il metodo comparable, su event, chiaramente, e questo comparable, aggiungi il metodo di implementare, il metodo compareTo dovrà ovviamente confrontare sulla base del tempo, come sempre, la coda prioritaria deve lavorare sul tempo, il tempo in questo caso l'avevamo immaginato come una variabile di tipo local time, e quindi dobbiamo fare il confronto tra il this.time, in termini di oggetto local time, e other.time, ma poiché local time è un oggetto, è abbastanza facile usare, delegare al comparatore di local time, che saprà esattamente cosa fare, quindi return, io delego semplicemente, this.compareTo, compareTo other, fine, il confronto di tempi è, no, si di compareTo, mi sto chiamando me stesso all'infinito, this.time.compareTo other.time, quindi estraggo il campo time, e uso comparatore di local time, che è un local time.compare, ok, mi va bene già il valore, nel senso che il comparatore mi restituisce negativo, quando un tempo è minore dell'altro, quindi ho già la scala crescente dei tempi, che è quello che mi serve nella coda prioritaria. ok, questo dovrebbe bastarci, per quanto riguarda la classe evento, per quanto riguarda la classe paziente, io direi, andiamo avanti in modo incrementale, aggiungendo i campi, man mano che ci servono, quando capiremo, cosa ci servirà, ok, il primo però campo, che sicuramente mi servirà, perché l'abbiamo citato un milione di volte, è il colore di questo paziente, il paziente, può avere uno stato diverso, a seconda del suo colore. Quindi anche qua, converrà magari definire un elenco, no, di, ad esempio, attraverso un'immunicazione, chiamiamolo stato, e lo stato del paziente, potrà essere in varie condizioni, noi sappiamo che, i tre più importanti, saranno sicuramente, white, yellow, red, e sappiamo che purtroppo, c'è anche black, e vediamo un po' se ci servirà a giungerne altri. Quando creiamo, vediamo, sicuramente questi sono citati, diciamo così, e quindi ci serve rappresentarlo, ok, quindi il singolo paziente, ha uno stato che evolve nel tempo, quindi questo mi serve di sicuro, allora definisco una variabile, private, state, chiamiamolo anche lui state, così come un'altra informazione, che probabilmente mi serve, l'abbiamo già citato, il fatto che quando, quando devo chiamare qualcuno, dalla sala d'aspetto, chi chiamo? Chiamo colui che ha lo stato più grave, ok, e è arrivato a parità di stato, è lì da più tempo, quindi devo sapere, in qualche modo, da quanto tempo una persona, è in sala d'aspetto, questa è un'informazione che non mi dice, non me la dice la, la coda prioritaria degli eventi, perché quando uno è entrato in sala d'aspetto, chiaramente aveva un evento, in cui lui entrava, l'evento triage, ma poi quell'evento, una volta che l'ho elaborato, l'ho buttato via, quindi non mi ricordo, non posso andare a risalire, a quell'evento, quindi devo salvarmi, visto che è un'informazione che mi servirà più avanti, quando elaborerò, quando elaborerò l'evento free studio, cioè qualcuno viene chiamato, dalla sala d'aspetto, per andare a farsi curare, ho bisogno, ho l'elenco dei pazienti, che sono in sala d'aspetto, e devo trovare quello migliore, diciamo, quello che è la priorità più alta, in quel caso mi serve conoscere, per tutti i pazienti, il loro coloro attuale, e il loro tempo di arrivo, informazioni che avevo, al momento del triage, però me le devo salvare, dentro il paziente, perché altrimenti, ho tutti i pazienti, nel simulatore, però non so chi scegliere, ok? Quindi dentro il paziente, avrò anche sicuramente, il tempo, private, local time, arrival, il tempo di ingresso, in sala d'aspetto, e così, tra tutti coloro, che hanno il codice rosso, sceglierò quella persona, che è lì da più tempo, e così via, local time, dobbiamo un pochino importarlo, e ok, siamo a posto, per il momento, non mi vengono in mente, altre proprietà di patient, ma potremmo avere un nome, potremmo avere un identificatore, un numero, se ci servisse, lo aggiungiamo, il nome no, perché è difficile da generare, non ne sappiamo, ma per ora, sono pazienti anonimi, però sono tutti distinti, uno dall'altro, perché ciascuno, avrà una sua istanza, di oggetto paziente, allora, direi che abbiamo, almeno le caratteristiche principali, degli oggetti di supporto, e quindi, possiamo partire, con la simulazione, abbiamo detto, il costruttore, abbiamo tre metodi, il costruttore, l'inizializzazione della coda, e poi la simulazione vera e propria, ok, allora, il costruttore per ora, deve inizializzare, le variabili di stato, studi liberi, me la inizializza, a studi totali, e questo va bene, e invece, patient, non è ancora inizializzata, quindi devo farlo, nel costruttore, creando ovviamente, qui è una lista, è una lista vuota, di pazienti, quindi, this, punto, patient, patients, uguale, new, array list, di patient, per ora mettiamo un array list, e lo, importiamo, quindi, qua abbiamo, diciamo così, tutti i parametri di simulazione, che hanno già un valore di default, il costruttore, prende questi valori, e, inizializzare strutture dati, dopodiché, se l'utente vuole, può modificare, alcuni di questi parametri, prima che la simulazione, parta realmente, altrimenti, rimanga in questo valore, secondo metodo, che dobbiamo creare, è quello di inizializzazione, inizializziamo la simulazione, quindi, cosa vuol dire, inseriamo, nella coda degli eventi, l'input esogeno, cioè le informazioni, gli eventi, che arrivano dall'esterno, allora, che cosa arriva dall'esterno? Arrivano, i pazienti, scadenzati, da un certo tempo di arrivo, che è, T-arrival, a partire dal tempo iniziale della simulazione, ad arrivare al tempo finale della simulazione, quindi, io quello che dovrò fare, è inserire, nella coda degli eventi, tanti eventi, del tipo è arrivato un nuovo paziente, quindi dovrò creare, un nuovo oggetto paziente, crea una persona, e poi inserisco, l'evento new, del tipo è arrivato, questa persona, a questo istante di tempo, poi gli eventi, continuerò a crearne di altri tipi, i pazienti, non ne creerò più di nuovi, perché da quel momento in avanti, li avrò creati tutti all'inizio, e poi seguirò semplicemente, la loro evoluzione, quindi, io sto creando, a tempo di simulazione ancora fermo, tempo zero, sto creando tutti i pazienti, che via via, arriveranno, è più comodo fare così in questo caso, piuttosto che non doversi creare l'oggetto paziente, ogni volta che ne arriva uno nuovo, e inserire un oggetto new, senza nessun paziente di riferimento, quindi in questo caso, io devo prendere, il tempo, ah scusate, nel costruttore, ho dimenticato di inizializzare, la cosa più importante, che è la coda, cioè, new, priority queue, se no, ci brettiamo questi bei null pointer, di event, schiamolo esplicitamente, ok, allora, nell'initialize dobbiamo prendere tutti gli istanti di tempo, in cui arriva qualcuno, quindi abbiamo, un local time, ora, chiamiamolo così, che inizialmente è uguale, al tempo di inizio della simulazione, poiché, poi, fino a quando l'ora simulata, è inferiore all'ora di fine della simulazione, devo simulare l'arrivo di un nuovo paziente, quindi while, ora, minore di simulazione end, simulazione stop, adesso minore, no, perché non è un oggetto, non posso usare il minore, ma posso usare i metodi di confronto, tra le date, quindi ora, punto, before, is before, di, this, punto, simulation stop, e cosa faccio, simulo l'arrivo di un paziente a quest'ora, e poi faccio andare avanti l'orologio, ora, punto, ora uguale, ora, punto, plus, mass, sommo all'ora attuale, il tempo di arrival, ecco qua, il tempo che intercorre tra l'arrivo di un paziente e il paziente successivo, quindi quello che, nell'altro esercizio abbiamo fatto con un numero intero, no, tempo uguale a tempo più intervallo, eccetera, qui lo facciamo con i metodi di local time, perché abbiamo fatto un oggetto temporale completo, ma l'idea è esattamente la stessa, e in mezzo, quindi mi devo creare un nuovo paziente, quindi, il nostro signor P, per ora il costruttore di pesce non ce l'ho ancora, creiamo un primo costruttore con questi due campi, speriamo di non doverne aggiungere altri, se no lo faremo, allora, costruttore, con questi due campi, allora, devo passare uno stato e un tempo d'arrivo, qual è lo stato di un paziente che è appena stato creato, in realtà non posso ancora indicare nessuno di questi colori, perché fino a quando non ho fatto il triage, quindi devo definire ancora uno stato in più, che indica il fatto che di questo paziente non so ancora il colore, uno stato non definito, adesso possiamo scegliere in due modi, possiamo mettere null, a questa variabile state, e poi andiamo a fare cheat test, oppure aggiungiamo uno stato in più, che possiamo chiamare unknown o new, unknown forse è più corretto, lo stato non lo so ancora, perché verrà segnato più avanti, oppure new, ma new non lo voglio chiamare new, anche se sarebbe più breve da scrivere, per non confonderlo col tipo di evento che si chiamava new, quindi crea un nuovo paziente di stato unknown, e è arrivato in quest'ora, o meglio, l'evento new ha questo istante di tempo come ora, poi in realtà nel paziente avevamo detto, guarda che questo campo qua, arrival, mi interessa soprattutto quando sono entrato in sala d'aspetto, non quando sono entrato nella simulazione, quindi questo tempo qua in realtà lo dovremmo poi cambiare, perché è importante il tempo di fine triage, non tanto il tempo di ingresso, però possiamo mettere questo tempo qua, che è il tempo in cui abbiamo visto l'utente, ecco, finora abbiamo creato il paziente, con informazioni minimali perché non sappiamo molto altro su di lui, o lei, e a questo punto scheduliamo l'evento in cui effettivamente questo paziente entra nel sistema, quindi Q add new event, e a questo punto cosa dobbiamo passare come parametri di event? il tempo di arrivo, il tipo di evento e l'identificativo del paziente. Il tempo di arrivo è ora, il tempo simulato che stiamo simulando, il tipo di evento è un new, di questi 5 eventi stiamo simulando l'evento new, e poi finalmente il paziente P che abbiamo appena creato. dimenticavo l'ultimo pezzo, quando ho creato il paziente, magari me lo metto nella lista dei pazienti, visto che abbiamo creato una lista dei pazienti, non voglio solo averlo nella coda degli eventi, che poi magari lo perdo, l'ho creato e me lo metto nella lista dei pazienti, quindi avrò un this.patients.add.p, dove in questa lista lo metto perché ci rimanga, nella coda degli eventi lo metto perché poi lo toglierò alla prima occasione possibile. è una scelta, possiamo decidere di aggiungere il paziente già adesso, oppure quando elaboreremo l'evento new, dicendo così, la lista dei patients contiene solamente i pazienti che sono già stati, diciamo così, acquisiti nel sistema, basta solo che ci mettiamo d'accordo su che cosa deve contenere quella lista. Su questo ci ragioniamo ancora quando la useremo. Ok, questo dovrebbe essere sufficiente per caricare il simulatore con un po' di eventi che poi deve elaborare. Beh, poi c'è il metodo più facile di tutti, che è il metodo di run, public void run, che alla fine lo scheletto di run è abbastanza minimo, se non poi ci sarà il mondo in cui dovremo elaborare gli eventi. Allora, run dovrà fare sempre la stessa cosa, while la coda non è vuota, quindi while not this.queue.isempty, allora prendi un evento, punto poll, ed elabora questo evento. genericamente chiamiamo un metodo process event e esternimento e l'apro, fine. Questo è il metodo run. Dove ovviamente tutto il lavoro l'abbiamo nascosto dentro questa funzione che è questo metodo che dovremmo scrivere. Andando a vedere tutti gli altri casi possibili. Possiamo provare a fare un giro a vuoto di questo simulatore in cui non simula ancora nulla, magari creando una process event vuota, privata qua sotto e qua metteci semplicemente una print dell'evento per vedere via via che cosa estraggo dalla coda e verificare che finora il codice che abbiamo scritto finora sia sensato. Dunque, per poterlo fare, questa print dovrò ovviamente mettere un toString alla classe evento il cui va bene fill, time e patient va bene magari lo semplifico un pochino perché altrimenti mettiamo time così poi mettiamo semplicemente un trattino col type e poi che sono due punti per indicare il patient e poi il patient anche esso deve essere stampato e quindi vediamo di mettere una toString patient e gli diamo uno stato e diciamo che è arrivato alle tal dei tali e con queste due toString proviamo a provare a creare simulatore initialize run dal nostro main di test quindi public static void main string args non ho dimenticato di farlo generare quando ho creato la classe quindi avrò un simulator new simulator dove ricordiamoci che la classe simulator serve un parametro un argomento che è il numero di studi totali su this slide se non sbaglio facevo l'esempio di 3 quindi cominciamo a metterci un 3 e poi avremo un sim punto initialize e un sim punto run eventualmente qua in mezzo tra il new e l'initialize potremmo se volessimo cambiare i parametri che sono il tempo d'arrivo l'ora di inizio della simulazione eccetera eccetera allora a questo punto vediamo se no dovrei aspettarmi a questo punto di far partire la simulazione diciamo così mi aspetto un errore però se non ci fossero errori dovremmo vedere tutti i vari eventi di tipo new che via via vengono estratti dalla coda perché ricordiamoci abbiamo messo una print line subito dopo l'estrazione della coda e non so perché non mi da null pointer exception e quindi se siamo fortunati a volte capita mi sono incasinato con le finestre così e quindi mi dice guarda alle 8 hai un evento di tipo new ed è arrivato il paziente che è in questo stato nei pazienti non hanno un nome alle 8 e 10 è arrivato un altro paziente alle 8 e 20 è arrivato un altro paziente e così via fino alle 19 e 50 quando arriva l'ultimo paziente perché alle 20 chiudiamo e quindi il paziente delle 20 non lo consideriamo più ok adesso abbiamo la coda piena di eventi new e quindi cominciamo a gestire gli eventi new cosa diceva il testo diceva guarda quando un paziente arriva deve attendere diciamo un certo tempo prima che gli venga segnato un codice e quindi l'assegnazione del codice sarà l'evento che chiamiamo triage fino ad allora invece non è non ha nessun codice quindi semplicemente la gestione torno dentro simulator la gestione della allora qui dentro processivente come lavoro lavoro normalmente con un grosso switch no? che valuta i vari cali magari per comodità io posso già estrarre il tempo per comodità di lavoro per non trovare estraggo il time estraggo i pezzi dell'evento ok? posso avere vabbè il tipo non mi serve il paziente chiamiamolo P il nostro amico dall'evento così non devo scrivere ogni volta get time get passion dentro il codice ma risalvo in variabili interno di comodo quindi alla fine il grosso lavoro che dovrò fare è a seconda del tipo get type di evento faccio cose diverse io per ora ho solo eventi di tipo new event type com'è che si fa? event non me lo riconosce aspetta un attimo ecco ok forse dovrebbe essere sufficiente così forse così ok mi suggerisce lo capisce già da solo dal tipo del get type di quale tipo di numerazione si tratta ok quindi per ora abbiamo un primo evento new facile da gestire quando arriva un nuovo paziente questo stesso paziente dopo 5 minuti avrà il triage effettuato quindi devo schedulare l'evento triage dopo un certo tempo che è il tempo triage time quindi in questo caso è facile io devo prendere semplicemente non devo far nulla di particolare se non aggiungere un nuovo evento schedulare un nuovo evento add new event questa volta di tipo triage a un istante di tempo che è quello attuale plus il triage il tempo di triage che era qua triage time il tipo di evento sarà triage event type triage punto triage e il terzo parametro il paziente è sempre il nostro P cioè mi è arrivato un new dentro il new c'era il paziente P ok caro paziente P tra 5 minuti ci rivediamo e avrei fatto il triage fino ad allora non ho niente da fare su di te se rifacciamo un run adesso dovremo vedere un inter per calare di eventi new triage new triage eccetera uno arriva alle 9 19 scusate alle 19 10 e questo stesso paziente alle 19 10 avrà fatto il triage il triage questo tempo qua era quello che avevamo scritto dentro il paziente che rappresentava al tempo del tempo di arrivo iniziale abbiamo spostato in avanti nel tempo di 5 minuti ciò che succede a questo paziente e dovremmo gestirlo invece con l'evento triage quindi altro caso triage cosa devo fare devo assegnare un codice colore quindi assegna un colore e registra il tempo di arrivo in sala sala d'attesa quindi qua devo effettivamente lavorare sul paziente devo fare un set state che non è più unknown ma diventerà giallo bianco rosso e poi un set arrival con questo istante di tempo mi ricordo adesso che dentro patient forse non ho messo i setter e i getter quindi è ora di metterli se li voglio chiamare quindi qua mi servono sia setter che getter perché effettivamente il paziente ha un'evoluzione di cambio questi parametri non è come l'evento che lo genero immutabile lo butto via ma il paziente una volta che ce l'ho lo uso e lo modifico quindi una volta che ho i miei setter e getter vuol dire che dentro il simulatore dovrò fare essenzialmente un p punto set state e un p punto set arrival set arrival è facile perché è il tempo attuale set state invece non è così facile perché devo decidere quale colore dargli e qua dobbiamo decidere il criterio con cui ci inventiamo i colori i due criteri più semplici che avevamo discusso la volta scorsa è a caso oppure a rotazione il primo un bianco il secondo il giallo un terzo un rosso che in realtà non ha molto senso sarebbe più utile definirli a caso allora a caso come proviamo a fare un esempio immaginiamo di dover fare di dare le probabilità ok diciamo che il paziente sarà al 50% delle probabilità bianco al 30% giallo e al 20% rosso giusto per dare le probabilità decrescenti come facciamo a gestire questa cosa qua che è un esempio semplice che avrà anche per casi più complicati allora semplicemente per generare uno stato di colore diverso io mi genero un numero casuale da 0,1 o da 0,100 come preferite e poi vado a confrontare questo numero casuale con 0,5 se è minore di 0,5 allora è bianco poi lo vado a confrontare altrimenti con 0,5 più 0,3 0,8 se è minore di 0,8 ma non era minore di 0,5 sarà giallo e così via quindi in qualche modo ci immaginiamo una distribuzione cumulativa di probabilità quindi la somma di tutte le probabilità degli eventi precedenti e vado ogni volta a vedere se il numero casuale è minore di questa soglia o no questo è un meccanismo che in gergo si chiama roulette wheel cioè la ruota della roulette immaginate di avere una ruota della roulette ci sono i 36 38 quante sono caselle che sono tutte larghe uguali ma immaginate di avere una ruota della roulette in cui le caselle hanno una larghezza diversa e questa ampiezza dell'angolo è proporzionale alla probabilità con cui la pallina finisca esattamente in quella casella e qui lo stiamo emulando in questo modo estraggo un numero casuale che sarebbe la posizione in cui si ferma la ruota e vado a vedere qual è la probabilità quindi in questo caso ho solo tre casi quindi lo posso fare diciamo così arcoded altrimenti ci sarebbe un ciclo in cui vado a fare le somme delle probabilità detta in poche parole estragiamo un double numero casuale mat.random e facciamo tre controlli if r minore di 0.5 allora sto signore è bianco altrimenti se r minore di 0.8 allora questo signore sarà giallo altrimenti sarà rosso possiamo a scopo il debug vedere cosa stiamo facendo diciamo che abbiamo triagiato chi e vediamo il suo valore quindi ho solo segnato lo stato e il triage e quindi quello che dico è alle 8 beh prendiamo caso alle 15.10 arriva un signore nuovo alle 15.15 ha fatto il triage e alle 15.15 io mi sono registrato che lui è stato assegnato a lui è stato assegnato un codice bianco e l'orario di ingresso in sala d'aspetto a questo punto è alle 15.15 che è quello che mi servirà poi per questi due valori mi serviranno per decidere poi la priorità di ingresso vedete che c'è un red sotto c'è uno yellow sotto un altro white un altro white white e tendenzialmente la frequenza di questi colori dovrebbero insomma ripercorrere queste probabilità ricordiamo quando elaboriamo un evento quali sono le domande a cui dobbiamo rispondere la prima domanda è che cosa succede che cosa succede è che devo decidere il colore che effetto ha sullo stato del mondo come cambia lo stato del sistema e lo stato del sistema per noi era l'elenco di pazienti quindi aggiorniamo l'elenco di pazienti perché questo paziente qua ha cambiato stato quindi stiamo aggiornando il contenuto di quella lista su di liberi in questo caso non cambia però dobbiamo chiedercelo mentalmente e poi la terza domanda da farci è quali sono i conseguenti sul futuro cioè quali sono gli eventuali eventi futuri che devo schedulare a seguito di ciò che ho fatto di ciò che è successo allora questo signore o signora adesso è stato segnato un codice colore è in sala d'aspetto da questo istante di tempo in avanti e uscirà dalla sala d'aspetto o comunque dovrò farci qualche cosa in due casi o c'è un time out ricordate se è bianco se è giallo se è rosso ci sono dei tempi di time out e dopo di che succede qualcosa oppure viene chiamato per essere curato allora il time out è facile da gestire perché basta che io scheduli un evento nel futuro dicendo che tu sei entrato alle 8 e 15 se tra un'ora sei ancora lì time out fai qualcosa prendi un'ecisione mentre invece mi risulta difficile schedulare l'evento di ingresso nello studio perché non ho idea di quando potrà entrare perché dipenderà dagli altri quindi in questo momento non lo posso prevedere cioè io posso inserire un evento nella coda se so quando verrà se so assegnargli un istante di tempo però qua non lo so se potrà avvenire o no e allora non lo metto ci penso poi dopo a trovare un meccanismo che è più legato agli studi che non ai pazienti per poter diciamo così acquisire i pazienti quindi per ora gestiamo il caso in cui non venga chiamato non viene chiamato lui imposta un time out ad un istante di tempo futuro ma questo futuro dipende dal suo colore che vi ho appena assegnato se perché avevamo dei valori di time out diversi se non sbaglio c'era un time out per il bianco per il giallo per il rosso quindi dovrò fare lo stesso lavoro ma con un intervallo di tempo diverso quindi se poi alla fine se questo P gli ho appena assegnato uno stato che è uguale è proprio bianco state.white allora dovrò schedulare un nuovo evento this.cue.add mettiamo delle graffe se no qua non si capisce più nulla allora graffa this.cue.add nuovo evento in quale istante di tempo adesso più il time out del bianco quindi time plus time out white tipo di evento time out paziente sempre P scusa l'evento time out nel caso del bianco quando scatta il time out lui va a casa si stufa nel caso del giallo diventa rosso nel caso del rosso diventa nero quindi quando supera ti dice io se tra un'ora sarò ancora in sala d'attesa se sono bianco me ne vado poi altrimenti se lo stato fosse getState uguale a yellow invece farò la stessa identica cosa ma il time out yellow altrimenti stessa cosa con red quindi copio queste tre righe uguali red red else c'è qualcosa che non va se vogliamo questo state deve essere uno di questi tre se non fosse uno di questi tre vuol dire che la mia cosa degli eventi si è un po' sminchiata per durare il gergo tecnico e quindi blocchiamo l'esecuzione non deve succedere infatti metto un'eccezione proprio perché so che non deve succedere dimmi non deve essere possibile sì io di me non mi fido tu no in questo caso è semplice perché due righe sopra l'abbiamo appena settato però in generale quando esaminano una serie di casi capisci che tu hai l'oggetto state che può avere cinque valori ne stai testando tre ti viene a dire ma se per caso avessi un altro degli altri due che faccio non deve succedere infatti è un'eccezione se succede perché c'è qualcosa che non va mi aiuta a debaggare piuttosto che non dopo trovare un paziente che non so perché è finito lì quindi se esamino tutti i casi bene se ne esamino tutto insieme magari un controllo è come in uno switch mettere un caso di default poi noi siamo sicuri che non succede però sicuro è un termine un po' ambizioso ok e quindi abbiamo gestito il triage probabilistico in certo senso adesso abbiamo schedulato l'evento timeout vediamo gestire l'evento timeout quindi abbiamo un altro caso timeout allora cosa facciamo nell'evento timeout abbiamo se ricordate il disegnino che abbiamo fatto che c'era sulle slide se l'utente è bianco e scatta il timeout allora esci out se l'utente è giallo e scatta il timeout allora diventa rosso se l'utente è rosso e scatta il timeout allora diventa nero quindi mettiamoci io ho il paziente p p.getState equals potrei anche fare uno switch qua dentro per uno switch dentro l'altro mi fa venire la nausea quindi state.white va a casa se invece ops perdono as if questa cosa qua yellow allora diventa rosso perché ho fatto copia ancora di questo perché devo riscriverlo altrimenti red se fosse rosso cosa fa diventa nero altrimenti ci raggiungiamo tra un secondo allora va a casa va a casa cosa vuol dire che lui a questo punto non ha più bisogno di essere curato esce dalla sala d'aspetto quindi magari potremmo ricordarcelo con uno stato in più infatti avevamo una casellina che si chiamava out se non ricordo male il nostro diagramma che dice ok sei uscito curato o non curato ma sei uscito ci serve perché questo punto perché altrimenti non avremo modo scorrendo l'elenco di pazienti di sapere chi c'è ancora nella sala d'aspetto e chi no quindi aggiungiamo questo stato e quindi diventa facile perché a questo punto facciamo un set state del paziente a state.out e basta visto che è uscito non devo schedulare nessun evento futuro registro il fatto che lui è uscito e quindi non è più in sala d'aspetto e quindi non ha più uno di quei codici colori ed è uscito nel caso del rosso giudate del giallo diventa rosso dimmi avete ragione dobbiamo aggiornare anche i contatori allora i contatori quali sono sono questi qua quindi in realtà dovevamo già aggiornare numero di pazienti che ci siano dimenticati e lo aggiorniamo in new e poi adesso qua in out aggiorniamo gli abbandonati certo perché se no ti conviene farlo durante perché non è detto che alla fine della simulazione tu abbia tutte le informazioni cioè immagina un'informazione magari un utente che per assurdo possa circolare va allo studio poi ritorna in sala d'aspetto poi ritorna eccetera e allora se devi contare le transizioni alla fine quando hai l'elenco finale non è detto che tu abbia tutto che abbia tutte le informazioni che ti servono quindi conviene andare a intercettare gli eventi in cui succedono le cose infatti avevamo dimenticato qua dis.n patience totali e incrementiamolo e invece nel vai a casa dis.n numero di abbandoni incremento diventa rosso beh setState paziente punto setState state red e poiché diventa red a sua volta devo reinserire il timeout del fatto che lui è diventato red il futuro timeout a questo punto vado a prendere esattamente ciò che facevo quando l'ho inserito diventa qua un timeout da rosso lui è nato giallo poverino poi nessuno l'ha ascoltato dopo un po' diventa rosso ma se nessuno continuerà ad ascoltarlo dopo un po' diventerà ancora nero quindi o devo schedulare tempo attuale più timeout red tipo evento timeout sempre del nostro p p a cui abbiamo appena cambiato colore adesso qui c'è una decisione che dobbiamo prendere a p abbiamo cambiato colore ma p ha anche il parametro di tempo d'arrivo domanda dobbiamo cambiare anche il tempo d'arrivo aggiornare il tempo d'arrivo adesso dipende da quanto siete buoni o cattivi io arrivo alle ore 10 mi danno il codice giallo ok e mi viene scritto che sono arrivato alle 10 poi dopo quanto tempo era 60 minuti dopo un'ora quindi alle 11 mi aggravo e quindi il mio codice giallo si trasforma in codice rosso adesso voi ritenete più corretto che io in sala d'aspetto sia un codice rosso con tempo d'arrivo alle 10 oppure aggiorniamo il tempo d'arrivo alle 11 10 10 no qualcuno vuole mettere 11 se sto poveretto sta qua si è aggravato e dobbiamo confrontarlo con un codice rosso che si è arrivato alle 10 30 se lui alle 11 si aggrava diventa codice rosso e alle 10 30 era arrivato uno che era codice rosso chi passa prima? quello che era già codice rosso ai 10 30 o lui quello è diventato alle 11 quindi mi muore prima tu dici è chiaro che questo è un modello grezzo ovviamente di come succedono le cose e come tutti i modelli grezzi alla fine ti prendi ti trovi a fare delle scelte che sono no? un po' brutali ecco però effettivamente quelli che io ero quasi buono dicendo che sei già lì che aspetti da un'ora però effettivamente voi dite se arriva un altro più grave tu ti sei appena aggravato adesso non mi importa del tempo che hai perso ma mi importa di più sulla tua gravità quindi in questo caso sarebbe corretto compro il vostro ragionamento aggiornare anche il tempo d'arrivo che verrà usato per scegliere chi passerà chi si farà curare finora non ci siamo ancora arrivati a usare questo dato qua diventa black fa la stessa cosa è più facile perché di nuovo anche qua lo metto black non devo schedulare nessun altro evento ma devo aggiornare il numero di quelli che ho perso per strada quindi sto gestendo il time out adesso questo else qua no fin qua al di là della scelta sul set arrival il resto è abbastanza semplice e l'unico caso in cui devo schedulare l'evento è solamente quello in altri casi esco dal sistema per motivi diversi questo else qua invece è un pochino più critico perché voi dite ma scusa se mi capita un evento time out vuol dire che sono in sala d'aspetto e quindi non potrò che essere bianco rosso o giallo per il morto per lo yellow che diventa rosso ah sì hai ragione no aspetta lo yellow diventa rosso e ho settato il time out per il rosso sì questa riga qua giusto ok allora mi verrebbe da dire che se scatta l'evento time out vuol dire che sono in sala d'attesa vuol dire che ho uno di quei tre codici quindi questo stress non dovrebbe mai capitare e finora con questo pezzo di programma che abbiamo scritto non capita mai però ricordiamoci che c'è un altro modo perché un utente esca dalla sala d'aspetto cioè che venga curato che venga visto dal medico allora può darsi che prima che scatti il time out quindi io entro alle dieci ok il mio time out scatta alle undici magari alle dieci e un minuto vengo chiamato e vengo curato e alle dieci e un quarto sono fuori fortunato e quindi il mio stato diventerà out il mio stato di paziente ma nella coda degli eventi c'era ancora quell'evento che avevo schedulato alle dieci che dice che alle undici mi stufo e vado a casa o mi aggravo o altro quando verrà alle ore undici e lo simulatore estrarrà l'evento di time out quell'evento lì non è più valido perché quell'evento aveva senso se io fossi rimasto fino alle undici in sala d'aspetto ma poiché ormai sono andato a casa devo ignorarlo quindi quando capita una cosa di questo genere in cui tu hai un evento che non è certo in un certo senso il time out è un evento possibile anzi in questo caso è un evento di default se non capita nient'altro prima capita il time out per non lasciarmi lì all'infinito però quando capita questo evento di time out può darsi che io non abbia più bisogno di lavorare questo time out perché nel frattempo ho fatto altre cose sono già uscito quindi in questo caso scatterebbe allora cosa posso fare se vengo un ragionamento potrebbe essere se vengo curato alle dieci in quarto allora vado a cancellare dalla coda degli eventi l'evento di time out associato a questo paziente che però è un'operazione abbastanza complessa se non folle perché è una coda prioritaria non ti permette non ha il metodo di ricerca non ha un metodo di cancellazione di un elemento quindi l'unica cosa che potrei fare è smontare la coda e ricostruirla da zero senza più quell'elemento ma chi me lo fa fare lascio che l'evento arrivi e quando arriva so che lo devo ignorare ok quindi in questo caso questo else ha ragione di essere vuol dire che è arrivato un time out per un utente che non è più in sala d'aspetto e quindi chi se frega dimmi però visto che sarà un evento che possiamo ignorare possiamo anche non scrivere un altro else semplicemente non entra nessuno dei tre else certo certo in questo else non ho nulla da fare in questo caso no io lo scrivo per dire ignoro l'evento perché non è più in sala d'aspetto in attesa poi vogliamo vogliamo a scopo di debug magari ci mettiamo un messaggino time out ignorato per paziente P poi in realtà tutto questo giustamente come dice lui se non devo fare nulla posso anche non metterlo però l'ho scritto per aiutarci a ragionare che questo caso può succedere e può succedere legittimamente cosa ho qua che è rosso cosa mi dice se sta perché è out non ho salvato patient poi andavo aggiunto il suo stato quindi se ridancia il simulatore vediamo un po' cosa capita ho un new triage white 8.05 c'è un po' di triage poi a un certo punto arrivano i time out questo è un time out sul bianco quindi va a casa time out sul bianco va a casa più tardi avrò un time out sul giallo quindi mi diventerà rosso time out sul giallo insomma sta andando avanti time out questi qua questi qua mi sono morti due alle 10.45 ok allora finora l'unica cosa che possono fare i pazienti è andare a casa o morire perché non abbiamo i medici non abbiamo ancora simulato i medici ok infatti non abbiamo ancora considerato questi altri due eventi free studio e heal la heal è facile il problema è free studio cioè si libera un studio medico e quindi il primo in sala d'aspetto viene chiamato allora la domanda non banale è come faccio a generare questo evento qua allora in teoria a metà giornata quando tutti i tre studi sono occupati c'è un paziente dentro questo paziente c'è entrato a una certa ora dopo un certo tempo avrà l'evento heal cioè quel paziente è curato e va a casa quando elaboro l'evento heal ovviamente si è liberato uno studio e quindi posso generare l'evento free studio quindi l'evento free studio viene generato come conseguenza immediata di un evento heal ho curato il paziente tre quindi il mio studio è libero e vado chiamo il prossimo paziente ok quindi si autoalimentano in certo senso ma se invece all'inizio della giornata quando i studi sono vuoti non posso dire chiamo un nuovo paziente quando esce il paziente precedente oppure se si libera il terzo studio e in quel momento non c'è nessuno in sala d'aspetto chiamo un paziente non c'è va bene ma poi arriva qualcuno se arriva qualcuno dovrò chiamare farlo passare subito quindi la logica con cui si genera l'evento free studio è una logica abbastanza articolata free studio cioè chiamo un nuovo paziente quando ne ho appena curato uno perfetto chiamo un nuovo paziente quando uno studio è vuoto oppure quando arriva un paziente quindi faccio un triage e in quel momento lo studio è vuoto allora la difficoltà è diciamo così creare questo free studio quando ci sono degli studi vuoti e non solamente quando cura un paziente un modo quale potrebbe essere potrebbe essere di dire quando io ho fatto il triage vedo se c'è uno studio vuoto e se sì schedulo immediatamente un evento free studio occhio perché così sto schedulando degli eventi free studio quando i pazienti entrano e devo pensare che se entrano due pazienti contemporaneamente entrambi vedono uno studio libero ma il studio è uno solo i pazienti sono due quindi non è detto che possono entrare tutti e due quindi la gestione di free studio dovrà fare attenzione che dice sì ok chiamiamo qualcuno ma prima di chiamarlo verifichiamo che davvero ci siano i studi liberi perché con tutta questa sovrapposizione tra la gente che esce chi decide se dobbiamo chiamare qualcuno o no è davvero free studio però un'idea potrebbe essere quella questa cioè noi dove siamo in simulatore dentro triage ho generato gli eventi time out eccetera eccetera e poi potrei andare a dire se c'è almeno uno studio vuoto chiamami poi magari non chiama a me chiama un altro perché io ho una priorità troppo bassa ma quindi potrebbe essere if il numero di studi dove era la variabile che è studi liberi è minore a studi totali allora chiamami subito this.q .add new event di time adesso non faccio nessun plus adesso chiama me dimmi come l'ho calcolato studi liberi l'ho inizializzato ah sì certo è contrario scusate io pensavo ho scritto una cosa e ho pensato un'altra studi liberi maggiore di zero certo grazie perché parto da tre decremento c'è tre ok ok attenzione che il fatto che io vado a schedulare free studio non mi esime dallo schedulare comunque il time out perché quel free studio abbiamo detto non è poi detto che venga chiamato davvero o che venga chiamato proprio io sono tutti eventi che possono capitare e quando capiteranno andremo a vedere se effettivamente li posso eseguire e poi l'altro evento che genera free studio è chiaramente l'evento di guarigione possiamo gestire l'evento di guarigione è facile se un paziente è guarito dovrò ma dimmi è nel costruttore nel costruttore è qua no ho fatto hai ragione non l'abbiamo inizializzato grazie avevo scritto questa ma non è la stessa cosa ok allora dove eravamo ah guarisce una persona che faccio la mando a casa non set arrival set state out incremento il numero di pazienti curati e chiamo il prossimo paziente e chiamo il prossimo paziente l'ho appena mandato via l'ho appena mandato via quando faccio free studio in realtà non c'è nessun paziente realmente associato a questo studio quindi mettiamo un null non so che farci sarà il free studio che decide chi deve chiamare quindi in realtà torno anche su quando qua ho detto free studio del tipo chiama me no chiamo qualcuno è entrata una persona c'è uno studio libero chiamo qualcuno non è detto che sia io quindi mettiamo che qua null perché è il free studio che decide chi chiamare quindi l'unico caso di evento che non è associato a un paziente ed è l'evento più complicato da gestire di tutta la nostra simulazione lo ho lasciato per ultimo apposta perché cosa deve fare e vediamo che è l'ultimo da gestire perché è anche free ah non aspetta sono fuori del case questa graffa qua fatemi fare un commento qui così mi ricordo che qua finisce la switch ecco free studio è l'ultimo evento che dobbiamo gestire gli altri li abbiamo gestiti tutti quindi non c'è un caso di default cominciamo a dire la parola cosa dobbiamo fare qua e dobbiamo semplicemente innanzitutto verificare che ci sia davvero uno studio libero ok perché magari abbiamo generato in sovrannumero gli eventi free studio tutte le volte che ci pareva utile e magari non ci sono quindi verifichiamo e poi ok se no ignoro l'evento se non c'è studio libero ignoro l'evento se invece c'è studio libero devo trovare trova il paziente più urgente da patients quindi devo andare per quelli di red metterli in ordine quelli di yellow metterli in ordine se non ci sono i red e quelli di white metterli in ordine a questo punto se ha trovato il paziente più urgente diciamo così schedula mettilo schedula il dopo un certo tempo dopo il tempo di cura tutte cose relativamente facili tranne il paziente più urgente dimmi no il numero di studi liberi lo diminuisco quando chiamo un paziente non quando allora free studio è un evento che dice chiamiamo qualcuno forse chiamiamo qualcuno perché abbiamo visto che forse quando no abbiamo ragionato abbiamo visto che forse si verifica anche quando non c'è essendo schedulato nel futuro possono capitare cose in parallelo quindi occupo lo studio solo quando effettivamente ho scelto un paziente e lo metto dentro perché può anche dire che c'è un free studio e non c'è nessun paziente perché è appena entrato nello studio parallelo che ne so e quindi non trovo nessuno da chiamare allora se invece ci sono dei pazienti come faccio a trovare quello più urgente e devo in qualche modo ordinare la lista dei pazienti secondo un criterio che è il criterio a due parametri posso fare una una priority list nel senso una cosa prioritaria cioè un modo più semplice di farlo allora un modo potrebbe essere mi prendo questa lista e vado a fare dove è finita quella lista e vado a fare un botto di confronti no prima vado a prendere se tutti i rossi vado a calcolare il max cioè il min del tempo dei rossi se invece non trovo nessun rosso lo faccio con i gialli eccetera eccetera oppure mi faccio fare il lavoro da una lista prioritaria una cosa prioritaria quindi questa qui che abbiamo chiamato list potrebbe in realtà diventare una priority queue che non c'entra nulla con gli eventi è semplicemente un elenco di precedenza in cui avrò un comparatore mi crea un comparatore che faccia i confronti tra i colori a parità di colore e quindi mi metterà davanti quelli che hanno un certo colore questa potrebbe essere un'idea attenzione che però quest'idea non è compatibile con questo perché io quando inserisco un elemento in una coda prioritaria l'inserimento lo mette in una certa posizione ricordatevi l'IP che avevamo disegnato di sistemi quadratini in modo da farlo arrivare a un certo punto sulla base dei valori dei campi di quell'oggetto in quel momento se poi io gli cambio i valori dei campi sotto il naso lui come fa a accorgersi la scuola prioritaria come fa a accorgersi che ho modificato quel campo state e quindi lui deve riaggiornare l'IP quindi potrebbe aver senso se tutte le volte anziché fare un set state dovessi cancellare quell'elemento e reinserirlo da capo che comincia a diventare forse più complicato come? se ho inserito un elemento e gli cambio il valore dell'elemento dopo che l'ho inserito non se ne accorge non se ne accorge ma un po' come la funzione di hash quando metti qualcosa dentro una mappa se tu poi modifichi il valore dei campi su cui ha calcolato la funzione di hash lui non è che può accorgersene quindi questo è un po' il fatto che noi andiamo a modificare dei valori di un oggetto che ne vanno indirettamente a modificare la priorità fa sì che una property queue da sola non mi basti se non facessi mai questa operazione alla fine sono il time out che mi frega non avrei problemi una volta che l'ho inserito so anche sull'arrival che abbiamo fatto più avanti mi va a fregare quindi a priority list è una buona idea ma purtroppo non funziona per come noi gestiamo gli oggetti dobbiamo gestirli in modo diverso cosa che tra l'altro non è anche facile perché cancellare un elemento da metà di una priority list non si può fare quindi dobbiamo gestircela in qualche modo più artigianale quindi o con una sorted list che è comunque una list ma mantiene l'ordinamento oppure andando a fare un'estrazione mirata calcolando il massimo il minimo con un po' di cicli a mano quindi questa è la parte un pochino più complicata se queste cose qua fossero in un database anziché in una collection faremo una query e ce la caveremo perché basta rifare la query ogni volta però invece le abbiamo in memoria e ce le dobbiamo gestire a mano ok quindi ci manca essenzialmente solo più questo in realtà questo punto qua perché gli altri sono abbastanza semplici quindi se volete provarci a completarlo mercoledì ci confrontiamo sul possibile metodo dimmi ah ok eh sì ma ti conviene fare un sort a questo punto cioè piuttosto di comprare di prendere una lista travasarla in una priority list ti costa meno fare un sort grazie a tutti